E' stato definito il più consistente sequestro di beni effettuato dagli uomini della Guardia di Finanza in Abruzzo. Un sequestro di beni per 16 milioni di euro tra immobili, beni aziendali, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie, tra i quali immobili di lusso come lo stabilimento Balneare Tortuga a Pescara ed il centro commerciale Cuore Adriatico a Civita Nova Marche. E poi ancora tre ville con piscina coperta e palestra, beni sequestrati dalla Guardia di Finanza all'imprenditore abruzzese Mauro Mattucci in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Chieti su richiesta della Procura nell'ambito dell'operazione denominata Scacco Matt. Riferendosi a Mauro Mattucci, il procuratore capo Francesco Testa ha chiesto ai giornalisti di non chiamarlo imprenditore. Sì, credo che sia una cosa da sottolinearsi. Ho detto che nel nostro ordinamento l'iniziativa privata deve svolgersi in armonia con l'utilità sociale e esattamente non è proprio questo il caso. Un'operazione resa possibile anche grazie agli strumenti offerti dal codice antimafia. Sì, esattamente. Abbiamo fatto il più esteso uso del codice antimafia. Abbiamo dimostrato al Tribunale la pericolosità sociale, la pericolosità fiscale del soggetto sottoposto. Le indagini complesse, svolte dalle fiamme gialle di Pescara e di Chieti, attraverso una certosina disamina dei flussi finanziari e degli investimenti operati, hanno consentito di ricostruire in capo a Mattucci non solo la disponibilità di beni mobili, mobili e di società intestate fittiziamente a familiari o terze persone, ma anche di qualificarne l'elevato spessore del profilo criminale caratterizzato sin dagli anni Ottanta da condanne, alcune in via definitiva, e numerosi procedimenti penali ancora pendenti per reati quali associazione per delinquere, estorsione, bancarotta fraudolenta ed illeciti ambientali. Ricostruiti minuziosamente dieci anni di attività di questo soggetto? Io direi non dieci anni di attività, ma dieci anni di crimine economico e finanziario. Un crimine economico e finanziario che i numeri dimostrano aver inquinato fortemente il territorio di due province bellissime come quella di Pescara e Chieti. Oggi con questa operazione, ma anche con le precedenti operazioni condotte a Pescara, con l'operazione Bancomat in particolare, direi che bonifichiamo il territorio economico e finanziario delle due province da aziende e da imprenditori, che imprenditori non sono, ma come ho detto prima, sono più prenditori, che hanno fortemente inquinato la concorrenza leale tra aziende e penalizzato fortemente gli imprenditori e i cittadini da cui hanno sottratto risorse. La gestione dell'ingente patrimonio sequestrata è stata affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Chieti. Interessi e ramificazioni tra Abruzzo, Lazio, Marche, ma anche all'estero? Anche all'estero perché questo soggetto ovviamente aveva investito in una rete capillare le sue disponibilità che aveva accumulato attraverso una serie di reati gravissimi che vanno dall'associazione per delinquere all'istorsione, numerosissimi reati tributari, fatture per operazioni inesistenti, indebite compensazioni e non da ultimo anche la banca rotta fraudolenta. Grazie.